452 progetti in Umbria per il Servizio Civile Universale, ma adesioni che non rispettano le aspettative. Il bando reclutamento così proroga e allunga i termini per la presentazione delle domande, che possono essere inviate fino al 10 febbraio. Numerosi soggetti attuatori, tra i più grandi, Anci, Arci, Lega Cop, Conf Cooperative e Ampas, che creano raggruppamenti di enti, come i comuni, cooperative e associazioni, dove poter svolgere l'attività di servizio civile per 12 mesi ed un totale di 25 ore settimanali, con un assegno mensile pari a circa 444 euro. Il numero delle adesioni da parte dei giovani, d'età compresa tra 18 e 28 anni, scatta una fotografia significativa. L'analisi riguarda l'Alto Chiascio in questa situazione, ma potrebbe essere replicata anche in altri territori umbri. 35 progetti per il servizio civile disponibili nei comuni di Gubbio, Gualdotadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia. La fetta maggiore a Gubbio con 21 progetti che vengono proposti ai giovani dai comuni, dalle cooperative come Asad e Capodarco, dalle associazioni come Misericordia, Cruce Rossa, da enti di assistenza come la Casa Mosca. 43 complessivamente i posti disponibili, 44 le domande presentate, che tuttavia sono sovrabbondanti per alcuni progetti e carenti per altri. Se ad oggi sono otto le domande per due posti in biblioteca, o cinque al Maggio Gubino per tre posti disponibili, ci sono difficoltà a reperire volontari per progetti destinati all'assistenza e animazione per disabili ed anziani. A Gualdotadino, dove sono otto i progetti per i 14 posti delle 21 domande presentate, ben otto sono per l'ufficio Servizi Turistici e Informazione del Comune, anche se i posti disponibili sono solo due, scarseggiano nel settore assistenza a disabili con il dato controtendenza della Misericordia, che su quattro posti disponibili totalizza quattro domande e Caritas quattro richieste su due disponibilità. Va meglio lungo la fascia appenninica, affossato di Vico, due progetti per sei posti disponibili e sette domande, a Sigillo tre posti e sei domande, Costacciaro due posti e quattro domande, a Schegge il rapporto è una a due. Il rapporto domanda e offerta è emblematico di quello che sta accadendo nel mondo dei giovani, se si guarda a quello che accadeva nel 2019, quando il Comune di Gubbio, come capofila del territorio, riceveva 73 domande a fronte di 44 complessive di oggi, ma ancora prima le domande erano 90. C'è un assottigliamento consistente del numero di giovani che aderiscono al bando di servizio civile e se lo fanno scelgono spesso progetti più declinati su turismo e cultura, meno sul sociale impegnato con disabili ed anziani.